3, 2, 1, go! Ora sto andando a casa del mio amico col pc dietro e non so faremo un video a casa sua faremo dei video e niente ci vediamo in questo episodio e buona visione bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo in compagnia del mio amico lui abbiamo fatto un video di fortnite adesso stiamo facendo la karaoke challenge con la luce un po' da discutere e come mi avete come mi avete chiesto e volevo un segno again ecco la karaoke ci sarà la stessa sfida ma cantata più forte da me sul mio canale ultimate power staccato power con la iscrivetevi e lasciate il like adesso io mi metto a urlare no ma va che poi sveglio i tuoi dai mezzi metti qua no no qua che poi si sente proprio supporti ovunque questo non lo so ne l'a mi ne l opera miagra miurita miurita ma perché si vede sempre很 blu e quel no? si ora magari è facile che io ho fatto sì 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 ah io ho la città sì 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 è ma è sì 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, cantata bene, bene, quella. Quella sì, di Ninna. 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 Raga, qua è tutto. Lasciate un bel like. Non ci ho detto. Eh, commentate, iscrivetevi, condiviate se non avete ancora fatto. e seguitemi su Instagram e su Facebook e ora vi salutiamo, bella a tutti ragazzi. Bella. Buongiorno. Buongiorno. Grazie.